Il deputato vicepresidente nazionale scelta civica Angelo Antonio D'Agostino ha predisposto un'interrogazione parlamentare al ministro dell'istruzione affinché faccia chiarezza sulla vicenda che vede un insegnante affetta da ptosi palpebrale e da semi paresi e muscoli facciali che pur vantando i titoli previsti dalla legge e una regolare abilitazione sarebbe stata estromessa dall'insegnamento per il suo aspetto fisico. La docente in questione, scrive il deputato, nell'atto di sindacato ispettivo ha conseguito la laurea magistrale in produzione animale con 110 lode con dottorato triennale e l'abilitazione all'esercizio e la professione di agronomo. È evidente pertanto che la docente ha tutti i requisiti per avere una cattedra ma nonostante i titoli e le certificazioni che lo attestano il preside di un istituto bresciano presso il quale la docente era stata chiamata per una supplenza in produzione animale avrebbe chiesto di sottoporla ad una nuova visita medica per l'idoneità. Il risponso è la commissione medica e l'AS di Brescia la cui valutazione la docente si è comunque sottoposta ne accerta l'idoneità all'insegnamento, aggiunge D'Agostino, ma non ad accompagnare gli studenti e le esercitazioni presso le aziende agricole un risponso che non sarebbe in linea con le precedenti certificazioni e l'attività esterna svolta alla docente nel periodo di tirocinio di Avellino durante il quale, a detta del padre, avrebbe girato tantissime aziende. A quanto è dato sapere, inoltre la docente sarebbe stata visitata dai medici della Sapienza dell'Università di Napoli e dell'AS di Avellino che le avrebbero riconosciuto la piena idoneità. Il parlamentare di scelta civica, pertanto, chiede al ministro di accertare le motivazioni che hanno indotto il dirigente scolastico e l'istituto bresciano a chiedere alla docente una nuova visita nonostante l'evidenza delle certificazioni presentate. Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Sello Giancarlo Giordano che ha incontrato padre e figlia e che in qualità di vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione ha annunciato ulteriori verifiche presso il ministero.